... ma ma adesso che la mamma salutiamo lì grazie a tutti allora giochiamo a caccia alla parola andiamo ma non c'è una parola eccoci qua molto bene il parola è un po' di rinforzamento questa prima parola molto carina al centro c'è tra l'altra e Simone c'è niente 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 Gianluca Sì C'è niente C'è niente il sede e poi c'è niente la seconda parola Vediamo quante lettere è bella che è questa vediamo c'è una A, e poi c'è anche Gianluca, Panale, Panale, no, vediamo, c'è anche una S accadrà, il cuore della parola Simone, Casata, Casata non è, Gaglia, Catale, Casale voleva essere la non è, vediamo se rimane un'altra A, Emilia, Basata, Basata, no Angelo, Posata, Posata Io anche, Gianluca, Lisaglia, no Angelo, no, Alessandro, Risata, si, Risata, si, Risata, e poi arriva e poi arriva alla fine attenzione perchè? perchè c'è un bastardo da venire